luco 2 segnaletica estate lucchese vacanze in montagna le montagne di luco dei marzi guarda che bel panorama ci troviamo sopra le montagne di luco dei marzi scendiamo giù faccio vedere provengo dalla grotta circa mezzo chilometro di distanza c'è l'ombra siamo al fresco qui sotto a circa 500 metri c'è la strada provinciale luco alzano si sente il rumore del traffico sentite l'anno piano si scende c'è paia di ulmo poi tutta roccia le chiamiamole il mini dolomese e adesso ammirate che magnifico scenario comincia qui vedete qui si è appassionato di alpinismo a questi due percorso ecco qui vabbè adesso faccio vedere una cosa